In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi, Amen. Laudetur Iesus Christus. Semper laudetur. Maria sedes sapientie, ora pro nobis. Continua, carissimi fedeli, la lettura della imitazione di Cristo. Libro primo, capo quarto. DELLA PRUDENZA NELL'OPERARE Non si deve credere ad ogni parola, né seguitare ogni impulso, ma a ciascuna cosa deve ponderarsi, secondo Dio, con prudenza e longanimità. Oimè, spesse volte si crede e si dice degli altri più facilmente il male che il bene. Tanto siamo deboli. Ma gli uomini perfetti non credono facilmente ogni cosa che loro viene detta, perché conoscono la debolezza umana, inchinevole al male ed assai labile nelle parole. È grande sapienza non essere precipitoso nell'operare, né ostinato nel proprio sentire. Ad essa pure appartiene il non credere ad ogni parola degli uomini e le cose udite o confidate non dir subito ad altri. Consigliati con l'uomo sapiente e coscienzioso, e cerca d'essere istruito da chi è migliore di te, anziché seguire i tuoi ritrovati. Capo quinto Del modo di leggere le sante scritture La verità è la verità che deve cercarsi nelle sante scritture, non l'eloquenza. Ogni scrittura sacra deve essere letta nello spirito col quale fu fatta. Nelle scritture dobbiamo cercare l'utilità, anziché la sottigliezza del dire. Così volentieri dobbiamo leggere i libri devoti e semplici, come gli alti ed i profondi. Non ti muova l'autorità di chi scrive, sia egli uomo di poche o di molte lettere, ma ti tragga a leggere l'amore solo della verità. Non cercare chi sia colui che parla, ma bada a ciò che si dice. Gli uomini passano, ma la verità del Signore dura in eterno. Senza accettazione di persone, il Dio ci parla in vari modi. La curiosità nostra ci è spesso d'ostacolo nel leggere le scritture, quando vogliamo intendere e discutere là dove si dovrebbe passare semplicemente. Se vuoi trarre profitto, leggi con umiltà, con semplicità e con fede, né voler mai aver fama di scienziato. Interroga volentieri ed ascolta in silenzio le parole dei Santi, né ti spiacciano le sentenze dei vecchi, poiché non sono proferite senza motivo. Laudetur Iesus Christus, semper laudetur, in nomine Patris et Filii et Spiritus Santi. Amen.